La possibilità di fare la spesa ed essere pagato. Sì, noi stiamo creando un centro commerciale unico dove si può risparmiare e guadagnare facendo la spesa. Ora, però, per capire se tu sei la persona adatta per poter partecipare a questo progetto, dovrai rispondere a questa domanda. Anche tu personalmente usi detersivi e detergenti? Usi prodotti alimentari come pasta, olio, vino, salumi, marmellate, salse e cose del genere? Usi make up e cosmetici? Usi profumi? Usi integratori alimentari? Usi doccia, schiuma, shampoo? Beh, se usi almeno uno di questi prodotti, sei il candidato ideale per questo tipo di attività. Sì, perché in realtà la buona notizia per te e per i milioni di italiani che ci sono là fuori da informare di questa cosa, è che semplicemente facendo la spesa noi possiamo essere pagati. Quindi possiamo crearci una rendita semplicemente facendo quello che abbiamo sempre fatto. Ora qualcuno però dirà, com'è possibile far questo? In che senso io vado a fare la spesa e vengo pagato? Allora, cerchiamo di capirlo esaminando quello che è il sistema commerciale tradizionale. Di solito, qualsiasi prodotto noi acquistiamo in un negozio, fa questa serie di passaggi prima di arrivare a casa nostra. Quindi, passa attraverso un produttore, che solitamente è all'estero perché la manodopera costa di meno, poi c'è un importatore che porta questo prodotto in Italia, un grossista che stocca questo prodotto e quindi lo mette dentro a magazzini, un agente di commercio, un rappresentante che vende questo prodotto a dei negozianti che alla fine lo vendono a noi. E in mezzo, se avete notato, ho saltato un passaggio volutamente, c'è la pubblicità. La pubblicità che incide notevolmente sul prezzo finale di un prodotto e fa conoscere un prodotto, ma non ne determina la qualità. Anzi, spesso alcuni prodotti che sono tra i più pubblicizzati, sono prodotti che sono anche molto chiacchierati da un punto di vista della qualità o addirittura anche del benessere generale. Ora, la domanda è, secondo te, i passaggi che vediamo qui sopra aumentano il prezzo dei prodotti? Beh, domanda banale, non è vero? E scontata come risposta. Ma chi ne fa? Chi ne paga le spese? Chi ne paga le conseguenze di questi passaggi commerciali? Beh, ne paghiamo le conseguenze noi consumatori. Infatti è stato calcolato che il sistema commerciale tradizionale è responsabile del 60-70% del costo. Se ci aggiungiamo anche il costo della pubblicità, che come abbiamo detto, fa conoscere il prodotto ma non ne determina la qualità, addirittura arriviamo anche al 200-300% del costo. Ora, come si potrebbe ovviare o modificare questo sistema commerciale e risparmiare? Beh, la cosa è molto semplice, andando a comprare direttamente in fabbrica. Grazie a Bortufi Network, noi possiamo acquistare direttamente in azienda, come consumatori associati, facciamo la spesa per telefono, per email, su internet, come vogliamo noi, e il 60-70% di margine commerciale che veniva pagato all'interno di quel sistema obsoleto ormai, antico, che abbiamo visto prima, viene ridistribuito all'interno della rete, come una porzione sotto forma di sconto, e quindi con un notevole risparmio per tutti gli associati, una porzione come guadagno che viene ridistribuito ogni fine mese. Come si fa per accedere a questi vantaggi? Basta associarsi. Con 18 euro, una tessera che vale per sempre, quindi costa meno di fare la tessera alla coppa, che costa 25 euro, con 18 euro voi siete registrati presso l'azienda, ricevete un codice, potete fare la spesa, la spesa vi arriva direttamente a casa, ma cosa più interessante è che più associati si fanno, più aumenta la forza contrattuale di questa azienda che si pone come interfaccia sul mercato, nefertale line, più si crea risparmio e guadagno per le famiglie associate. Inoltre, il costo, se vogliamo definirlo un costo di 18 euro per l'associazione, l'azienda ce lo fa rientrare immediatamente, perché pensate, ci regala un prodotto a scelta, un prodotto che può costare dai 4 euro fino ai 35 euro, quindi scegliamo noi il prodotto da ricevere e addirittura non solo non abbiamo speso, ma ci abbiamo volendo addirittura guadagnato solo. Ora, fin qui il meccanismo mi sembra che sia sufficientemente chiaro, non è vero? Quindi io mi associo, compro direttamente in azienda, salto tutti i passaggi e ho un risparmio. Ma come faccio a guadagnare? Semplice, un primo modo in cui puoi guadagnare è parli con i tuoi amici. È naturale, se trovi un supermercato dove si spende bene, si risparmia, si acquistano prodotti di qualità, è naturale che ne parlerai con qualche tuo amico. E che cosa succederà? Che qualcuno di questi tuoi amici, come succede per esempio per chi ha la tessera della metro o cose del genere, vi diranno, senti ma fammelo tu l'acquisto di quel prodotto, non mi vado ad associarmi, prendimelo tu. E allora magari noi acquistandogli il prodotto e dandoglielo a prezzo il listino che lo avrebbe pagato se lo acquistava direttamente lui in azienda, noi abbiamo un guadagno già da questo, un 30% di guadagno diretto. Ma non è finita qui, perché se i nostri amici invece decidono di registrarsi in azienda, quindi decidono di acquistare direttamente loro in azienda, per il fatto che siamo stati noi a presentarli in azienda, l'azienda su ogni loro acquisto ci riconosce una commissione, senza togliere niente a loro, senza andare a guadagnare niente sulle loro spalle, è l'azienda che ci paga per aver fatto pubblicità. Sostanzialmente quello che poi facciamo sempre, tutti facciamo pubblicità, un libro che ci è piaciuto, un cinema, un film, un ristorante, un prodotto, facciamo pubblicità, però la facciamo gratis. Qui invece l'azienda ci paga per aver fatto pubblicità. Poi capiterà che i nostri amici a loro volta parleranno ai loro amici di questa opportunità. E sapete che cosa succede? Che per la pubblicità che io ho fatto la prima volta, avendo parlato con i primi tre amici, l'azienda mi riconosce un bonus anche su tutte le persone che si associeranno, grazie alla pubblicità fatta da me la prima volta. E addirittura, per finire, posso andarmi a creare una rendita, creando un'organizzazione enorme di persone e utilizzando un sistema di formazione che mi aiuta a far questo, e questo mi consente di crearmi una rendita e di avere un beneficio per tutta la vita da questo sistema commerciale. Questa è in breve la nostra opportunità. Ora andiamo un pochino più nel dettaglio, partendo da quelli che sono i prodotti. Quindi vogliamo farvi vedere in questo supermercato cosa potete trovare in questo momento. Perché vi dico in questo momento? Perché in realtà noi abbiamo ampliato, abbiamo inserito 150 referenze in tre mesi, quindi questo significa che nei prossimi tre mesi ancora ci saranno tantissimi altri prodotti che si inseriranno. Però insomma già iniziamo ad avere un supermercato con una scaffalatura piena di prodotti molto interessanti. Partiamo dai prodotti che l'azienda distribuisce da più anni, che sono gli integratori alimentari. Abbiamo cinque integratori alimentari totalmente naturali, che presto diventeranno undici, perché abbiamo deciso di inserire tutti gli altri sei integratori che distribuisce l'azienda sul territorio nazionale attraverso medici, farmacie, parafarmacie, eccetera. Quindi cinque attualmente, presto undici integratori alimentari. Poi abbiamo quattro prodotti cosmetici, un peeling per la pulizia del viso, una crema yogurt, un siero all'acido ialuronico, che è un nostro prodotto di punta fantastico, e una crema anticellulite. Poi abbiamo una linea di profumeria, alta profumeria, con una caratteristica, sono profumi ispirati. Sì, se vi piace quel tal marchio, quella tal fragranza, e non siete interessati alla bottiglia, alla griffa, alla scatola che vedete di solito in profumeria, ma vi interessa quella che c'è, la fragranza che c'è all'interno, beh, noi vi possiamo dare un profumo ispirato a quella fragranza, a un prezzo che è un quinto di quello che lo paghereste in profumeria. Poi abbiamo una linea di make-up, quindi trucco, una linea di prodotti per la pulizia della casa, prodotti professionali, però per uso domestico, quindi altissima qualità e super concentrati. Abbiamo dei prodotti anche professionali per la pulizia di condomini, per la pulizia di attività commerciali, tutti i prodotti certificati HACCP e che si possono utilizzare anche con le macchine industriali. Poi abbiamo una linea di prodotti per la cura della persona, che comprende shampoo, doccia schiuma, igiene intima, sapone per le mani, un igienizzante mani, un guanto scrub struccante, un cristallo antiodorante, una serie di prodotti biologici per chi è attento all'ecologia oppure per chi ha problematiche riguardanti allergie e cose del genere, dal panno magico in microfibra che permette di pulire casa senza uso di detergenti, fino a tutta una serie di detergenti senza derivati chimici o petrolchimici, quindi prodotti fantastici, totalmente biologici. E poi la nuovissima linea food, che comprende olio extravergine d'oliva, comprende vino doc, abruzzese, pasta particolare, molto particolare al camut e al farro, salse deliziose della Baxter's per le tartine, per la tavola in generale, una linea di salumi fantastici di un salumificio che esiste da oltre 100 anni a Milano e produce dei prodotti veramente eccezionali, un prodotto di cui si sentirà molto parlare nei prossimi mesi, perché questa crema spalmabile alle nocciole, noccio al gusto, è un prodotto veramente fantastico e che può fare concorrenza ai più grandi marchi presenti sul mercato, sia come qualità, sia come sapore e anche come prezzo. Abbiamo le salse barbecue della Jack Daniel's e per finire delle marmellate e delle confetture di agricoltura biologica, sempre della Baxter's. Cosa altro sta per entrare? Beh, intanto già questa slide è vecchia, perché le prossime linee in arrivo, in realtà le linee servizi le abbiamo appena implementate, anzi stasera sarà fatto l'annuncio ufficiale della telefonia e dell'assicurazione. Stiamo ampliando anche la linea food con la linea snack e altri prodotti agroalimentari, inseriremo nuovi integratori e poi prestissimo avremo nella linea igiene persona un prodotto in esclusiva nazionale, degli assorbenti per signora con un brevetto esclusivo, veramente un prodotto fantastico che non vediamo l'ora di presentarvi. Insomma, come avete potuto capire, prodotti ce ne sono tanti, su tante linee diverse, stiamo creando, come vi dicevamo, un supermercato, in realtà non si allargherà soltanto ai prodotti, ma anche ai servizi, e vogliamo che in questo negozio le famiglie italiane trovino tutto quello che serve per risparmiare e guadagnare. Prima però di andare a vedere come si possono sviluppare i guadagni, vi chiedo cortesemente di darmi un feedback sull'audio, se mi sentite, se è tutto a posto, così io posso andare avanti tranquillo, ho riaperto brevemente la chat, è giusto per... Ok, perfetto, benissimo, vedo che mi sentite tutti, quindi possiamo andare avanti. Grazie, 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 grazie. Ok. Allora, tre modi per guadagnare. Primo risparmio, secondo promozione, terzo duplicazione del sistema. Ricordate all'inizio abbiamo detto chi registra in azienda acquisti direttamente in azienda, questo ti dà un risparmio. Il risparmio è la prima fonte di guadagno. Beh, certo, se io prima un prodotto lo compravo, ad esempio in profumeria, a 60 euro, e adesso lo posso comprare a 19, è chiaro che se risparmio 40 euro e me li tengo in tasca, siete d'accordo con me che già questa è una prima forma di guadagno? E se prima, se compravo la Nutella, la pagavo 4 euro, e adesso la pago 2,95 euro, un prodotto che... Guarda, non voglio dirvi che è meglio, ma veramente si fa fatica a non dirlo, provare per credere, insomma, sono tutte cose che poi alla fine del mese, sommate l'una all'altra, un euro qua, 50 centesimi là, 20 euro da una parte, alla fine io mi sono risparmiato una porzione, una fetta della mia spesa, senza fare traffico, senza dover andare a trovare parcheggio chissà dove, direttamente da casa, e soprattutto senza dovermi rifare alle offerte che mi danno quando dicono loro, sui prodotti che dicono loro. Ho un catalogo dove le offerte sono tutti i mesi, tutto il mese, su tutti i prodotti. Fantastico. Poi abbiamo detto, seconda possibilità di guadagno, faccio promozione, cioè ne parlo con gli amici. Ora, tutti quanti lo facciamo, tutti quanti ci viene spontaneo quando siamo seduti per un caffè, quando stiamo chiacchierando con qualcuno, quando facciamo qualcosa che ci piace, ci viene spontaneo parlarne ad altri, solo che di solito lo facciamo gratuitamente. Ora, guardate qual è il vantaggio di farlo invece con Nefertari Line, che il passaparola viene retribuito, infatti rispetto al prezzo di listino, che è quello a cui magari venderai o distribuirai qualche prodotto ai tuoi amici e conoscenti, perché ti capiterà che qualcuno ti chiederà di acquistare per lui un profumo, una crema, una bottiglia di vino, o una marmellata, beh, su tutti questi prodotti hai il 30% di sconto rispetto al listino. Questo significa che hai subito una provvigione, un guadagno immediato che ti puoi mettere in tasca. Guardate, noi spesso facciamo l'esempio sul profumo, che è la cosa più semplice, con 4 profumi al giorno, con 4 profumi al giorno, distribuiti, vi mettete in tasca quasi 700 Euro al mese. Quindi noi stiamo parlando di uno scherzo. C'è gente che con questo tipo di attività, senza mettersi a fare rappresentante, perché guardate che fare rappresentante significa fare altri tipi di fatturati, altri tipi di vendita, ma semplicemente parlando, facendo un po' di promozione con amici e conoscenti, si sta portando a casa uno stipendio in più, oppure sta portando a casa uno stipendio per mantenere la propria famiglia. Ma la cosa più interessante non è questa, perché altrimenti avremmo detto, all'inizio cerchiamo dei venditori, in realtà noi non cerchiamo dei venditori, noi cerchiamo delle persone che, per carità, che ben vengono le persone che vogliono vendere, se gli piace vendere, ma cerchiamo delle persone che capiscano un sistema e lo applichino. E questo sistema si chiama passaparola. Guardate, probabilmente alcuni di voi sono qui perché hanno ricevuto un invito su internet, oppure su Facebook. Tutti quanti conoscete Facebook, non è vero? la più grande rete sociale mai costruita, la più grande rete sociale virtuale di relazioni mai costruita, con, si calcola oggi, 500 milioni di iscritti. Ora, pensateci un attimo, come si è creata questa rete? Grazie a passaparola. E chi è che ci sta guadagnando? Ma soltanto il titolare, il proprietario di questa grandissima rete. Noi invece diciamo, creiamo una rete di relazioni non virtuali, ma reali, tramite i nostri amici, creiamo una rete di consumatori associati che facciano spese in questo negozio, grazie al fatto che io ho fatto pubblicità, che tu hai fatto pubblicità, che io e te facciamo passaparola sempre, tutti i giorni, e per questo l'azienda ci riconosce dei bonus. Come? Mediante un sistema a punti. Questo è un sistema che forse qualcuno di noi avrà sentito qualche volta, andiamo dal distributore e ci danno la tessera, andiamo al supermercato, ci danno la tessera per raccogliere i punti. Anche qui abbiamo una raccolta punti. Solo sapete qual è la differenza? Che in Borto Fly Network i punti non si trasformano in padelle, in pentole e pressioni, o in tazzine per il caffè, si trasformano ogni mese in soldi. Soldi aggiuntivi che vi vengono pagati per il fatto di aver fatto pubblicità. Sì, avete capito bene. E allora andiamo a capire come funziona questo meccanismo. La domanda che vi faccio è, secondo voi, per i prodotti che abbiamo menzionato fin qui, quindi cosmetica, alimentari, profumi, detergenza, prodotti per la pulizia della casa, una famiglia media, quanto spende mediamente? 200, 300 Euro al mese? Se avete detto che queste cifre sono ragionevoli, forse qualcuno ha detto che è anche poco, pensate a una cosa, l'esempio che abbiamo fatto adesso, che vi facciamo vedere adesso, è basato su un acquisto a famiglia di 100 Euro, che 100 Euro è questo che tutti fanno con i prodotti che ci sono. Quindi, in realtà, quello che adesso vi andiamo a far vedere, è basato non sul discorso della distribuzione dei prodotti agli amici, come vi dicevo poco fa, ma è basato semplicemente sul meccanismo del fare la spesa. Allora, da noi 100 Euro producono mediamente 150 punti, quindi, io mi faccio il mio 3% personale, cioè significa che l'azienda per la mia spesa mi riconosce un ulteriore 3%, ma qui chi è bravo a fare i conti dice 3%, 150 punti sono 4,50 Euro, poi da noi c'è un coefficiente per scorporare l'IVA e altri costi che ha l'azienda, quindi dello 0,70, alla fine viene fuori circa 3 Euro e qualcosa. Dunque, 3 Euro e qualcosa, vabbè, insomma, non mi sembra una grande cifra che mi viene restituita a fine mese. È vero, è vero anche che hai fatto 100 Euro di spesa, prova ad andare in un nuovo supermercato questo mese, a fare 100 Euro di spesa e quando ti presenti alla cassa gli dici guarda, ho fatto il mio 3%, mi devi restituire 3 Euro di sconto. Che vi dicono? Insomma, vi prendono un po' per pazzi, non è vero? La nostra azienda lo fa. Ma la cosa interessante, lo sapete qual è? È che quando io inizio a parlare con i miei amici, se sono da solo faccio 150 punti, ma se già siamo in 4, io più 3 amici, i punti diventano 600 e a quel punto io che ho fatto pubblicità percepisco il 6%, non più il 3 e se siamo un po' di più diventano 1.800 e percepisco il 9 e così via fino a salire al massimo grado di questa scala che è la seconda forma di guadagno che arriva al 21%. Guardate come è semplice nel giro di qualche mese arrivare a questi risultati. Abbiamo fatto un esempio, dicevo, su due persone, Anna e Aldo che fanno spesa in questo negozio per 100 euro, quindi 150 punti. Anna parla con due amiche e anche queste due amiche il mese dopo iniziano a far spesa in questo negozio. Che succederà? Che come Anna ne ha parlato con queste due amiche, anche queste due amiche gli verrà spontaneo parlarne con altre due. Ipotizziamo che in 4 mesi, prima 2, poi 4, poi 8, poi 16, è un calcolo matematico, 30 famiglie alla fine decidano di fare la spesa in questo negozio. A una media di 150 punti a famiglia abbiamo 4500 punti, significa che Anna verrà ricompensata dall'azienda con un 12% aggiuntivo. Quanto starà guadagnando Anna? Lo vediamo tra un po'. Guardate ad Aldo invece che cosa è successo. Aldo parla con tre amici, questi tre amici parlano con altri tre e quindi diventano nove, questi nove diventano 27, questi 27 diventano 81 e alla fine dei quattro mesi Aldo si ritrova nel suo gruppo, nella sua struttura 120 famiglie che fanno spesa in questo negozio. Ora, che cosa succede ad Anna e che cosa succede ad Aldo? Beh, ad Anna succede che guadagna dai 130 ai 200 euro al mese, significa che oltre a fare la spesa gratuitamente perché insomma ha fatto 100 euro di spesa ricordate se l'azienda a fine mese gliene restituisce 200 significa che Anna ha fatto la spesa gratis e in più oltre alla spesa gratis gli rimangono anche quei 70-80 euro in tasca magari per pagarci una bolletta per farci una ricarica telefonica o qualcosa del genere. Per aver fatto cosa? Pubblicità e la spesa nient'altro ma è incredibile incredibile per chi non conosce il sistema quello che è successo ad Aldo Aldo semplicemente per aver fatto pubblicità con una persona in più rispetto ad Anna per il potere della duplicazione si ritrova 120 famiglie che fanno spesa e grazie a questo meccanismo porta a casa uno stipendio in più dagli 800 ai 1300 euro in più e guardate che in questo mese soltanto nel mese di settembre in Italia ci sono state moltissime persone che hanno avuto questo risultato e che grazie al fatto che hanno fatto pubblicità hanno portato a casa dai 5 600 ai 700 euro in più fino ai 2000 ai 3000 ai 4000 euro in più e adesso lo andremo a vedere lo so sembra incredibile per chi non conosce questo sistema eppure potete chiedere informazioni alla persona che vi ha invitato qui e sarà lieta di spiegarvi come questo meccanismo funziona e come lo stiamo facendo conoscere a tutti gli italiani come dicevamo prima si può anche creare una rendita grazie a un sistema di formazione perché a quel punto poi bisogna sapere come costruire la propria rete per poter ottenere i risultati grazie a questo sistema di formazione posso generare la mia rendita quanto posso arrivare a guadagnare così ma le cifre non ve le diciamo soltanto per una questione di rispetto nei confronti di coloro che magari si spaccano una schiena per 700-800 euro al mese però la cosa che vi vogliamo dire e che vi esortiamo a fare è a chiedere informazioni a chi vi ha invitato qui perché da questo punto in poi aiutando uno o più amici a raggiungere quella fatidica soglia del 21% quindi quei famosi 15.000 punti voi entrate nel club leader e avete la ripartizione dei punteggi aziendali nazionali quindi la partecipazione agli utili dell'azienda fino al 12% più dei bonus dati tutti i mesi come rimborso spese più premi più incentivi quindi davvero una carriera fantastica che è messa a disposizione per tutti coloro che vogliono davvero fare qualcosa di diverso nella loro vita dopo aver visto tutto questo la domanda è come posso allora avviare questa che non è soltanto un tesseramento per fare spesa e risparmiare in un supermercato mi sembra di aver capito che qui c'è una vera e propria attività che posso fare facendo il passaparola e facendo la spesa tutti i mesi beh si può avviare con il sistema che abbiamo detto all'inizio ci si tessera si spendono 18 euro questo grande investimento mega galattico e con 18 euro avete oltre la tessera e quindi il vostro codice per fare spese e risparmiare con questo codice potete iniziare a presentare altre persone all'interno del sistema potete ricevere anzi ricevete un ufficio virtuale su internet un back office dove potete controllare in tempo reale quello che succede nella vostra struttura ricevete una piattaforma di videoconferenze come queste dove tutte le settimane c'è qualcuno che spiega l'opportunità e quindi avete un vantaggio che da Palermo a Torino potete invitare persone anche se siete lontani mediante una mail e potete fargli ascoltare questa opportunità avete un corso di start up gratuito online che sarà fatto prestissimo quindi a breve sarà fatto questo corso che viene fatto una volta al mese un libro sul network marketing che vi verrà consegnato sulla vostra casella di posta elettronica e del materiale stampato ovviamente Deblian cataloghi eccetera e in più come vi dicevamo all'inizio un prodotto a scelta tra un profumo un prodotto cosmetico un integratore alimentare oppure i 60 campioncini di cosmetica per iniziare a far provare i prodotti ai vostri amici tutto questo è quello che serve per iniziare questa attività in più se volete subito fare la vostra prima spesa e provare i prodotti l'azienda vi dice fate un ordine di almeno 50 euro vi regaliamo un altro prodotto in omaggio se fate un ordine che supere 120 euro invece i prodotti diventano 3 fatevi due conti se prendete 3 prodotti del valore di 35 euro significa che l'azienda va regalato 105 euro a fronte di 120 euro di spesa come dire fai la prima spesa te la regaliamo noi basta che provi i prodotti per renderti conto della qualità e poi non potrai fare a meno di parlarne ad altri se invece ti piace fare un po' di vendita e raccogli ordini per almeno 500 euro nei primi 30 giorni l'azienda ti regala questo questo campionario una profumeria ambulante dove dentro ci sono 57 fragranze per far conoscere e provare i profumi a tutti i tuoi amici così per concludere che tu voglia essere un cliente privilegiato e poter acquistare a prezzi scontati che tu voglia iniziare come promotore fare un po' di vendita e guadagnare qualche soldo in questo modo oppure voglia decidere di fare carriera con noi qualunque sia la tua scelta ti diamo il nostro benvenuto nella grande famiglia Nefertari Line e ti diamo un suggerimento anche se non ti è tutto chiaro forse quello che è stato detto questa sera perché magari qualche passaggio non è stato spiegato bene perché magari non ti è chiaro come funziona il meccanismo intanto sali il primo gradino come diceva Martin Luther King fatti la tua tessera associati a questo gruppo che ti permette soltanto di fare spesa a prezzi scontati e inizi a provare qualche prodotto mentre proverai un bicchiere di vino doc una fetta di salamino e magari i nostri profumi e i nostri cosmetici ti accorgerai che tutto diventerà più chiaro anche grazie ovviamente alla spiegazione che ti farà la persona che ti ha invitato ma soprattutto diventerà vera la frase che è scritta qui salite il primo gradino con fiducia non occorre vedere ora tutta la scala salite il primo gradino ogni viaggio inizia con un passo e noi ci auguriamo che voi abbiate un grosso sogno da realizzare e che possiate aver visto questa sera in Nefertari Line l'opportunità di realizzarlo grazie a tutti